Liverpool-Napoli abbiamo portato a casa un punto fondamentale per la classifica questo era importantissimo questo punto perché ti permette di giocare col gank con due risultati su tre possibili quindi o vinci o pareggi io spero nel Liverpool batta il Salzburgo come cazzo si chiama perché se no poi diventa complicato e devi vincere per forza la sbloccatrice Mertens ottimo assist di Di Lorenzo ragazzi Di Lorenzo spostato in avanti al posto di Caglion ha fatto un partitone secondo me Maximovic come io dicevo sempre l'anno scorso lo dicevo sempre Maximovic gioca meglio da terzino che da centrale non si sa perché ma gioca meglio da terzino questa cosa non l'ho ancora capita come mai però gioca meglio da terzino Coulibaly-Manolas non c'è da dir di niente stasera hanno fatto un partitone tutti e due se non ci arrivava Coulibaly ci arrivava Manolas e fino a qui se continuiamo su questi livelli fra questi due giocatori di intesa io parlo possiamo essere veramente la miglior difesa della serie A riparto giocatore come Coechiellini, Bonucci, Bonucci de Ligt, Smalling, Mancini se Manolas e Coulibaly giocano con questa intensità tutte le partite penso sia difficile segnare Mert è stato attento tutte le occasioni tranne quella uscita meno male c'era Sando Coulibaly sulla linea di porta e l'ha buttata via al centrocampo Alan, Alan, Fabian Ruiz stasera finalmente hanno fatto vedere che stanno giocare ancora a pallone perché Alan all'ottantacinquesimo correva ancora, correva, 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 ha fatto veramente un partitone Alan Fabian Ruiz uguale, la sorpresa come sempre, Mario Rui quando ero Liverpool non lo so perché quando vedete Salah che dalla figura di merda che gli ha fatto fare l'anno scorso come la partita in casa, si è mangiato a Salah una volta Mario Rui si è mangiato a Salah e secondo me se Mario Rui gioca sempre contro Salah vince un pallone d'oro secondo me oh, le parto offensivo, Mertens, come sempre, Mertens, se c'ha l'occasione segna non c'è niente da dire, se c'ha l'occasione Mertens segna io ho detto quando ho visto che la palla gli si era allungata ho detto la metterà nel mezzo, aspetterà l'appoggio, aspetterà qualcuno boom, ci ha tirato una castagna dall'angolino a basso e quant'ha la piglia? non la prenderai mai quella palla? Alison sta ancora capendo come ha fatto ad entrare quella palla? Lozano, lozano va, lozano piano piano si sta inserendo nel modulo sempre su 4-4-2 oggi il gioco, pure oggi il gioco è stato inesistente da parte del Napoli però bene o male sei stato dietro la linea della palla hai aspettato e partivo in contropiede quello lo puoi fare però tu non hai dimostrato grandissimo gioco nemmeno oggi Angelotti si salva la panchina perché è appareggiato un'altra volta pensate che c'è il gioco? si è salvato la panchina perché è appareggiato un'altra volta appareggiato se perdeva io penso che era finita per Angelotti a Napoli comunque Napoli ora ho detto c'ha due possibilità su tre non deve perdere se perdiamo in cazzo con il gang c'è un putino a cire ma sinceramente ci possiamo ammazzare secondo me oh quindi ah una cosa avete visto stasera non c'è stato Insigne in campo Insigne che non si è nemmeno presentato a Liverpool ha messo una foto su Twitter con la moglie che ridevano facevano se tu sei un capitano caro Insigne carissimo Lorenzo Insigne dei miei coglioni dovevi andare a Liverpool e stare in tribuna stavi in tribuna andavi andavi in tribuna se io sono il capitano il capitano il capitano di stu cazzo il capitano vero si è visto oggi chi è l'uomo spogliatoio in questa squadra il signor Coulibaly se tu gli metti quella fascettina che si mette qua gialla gialla in Italia è bianca e azzurra come cazzo la fanno o quella C quella C sul braccio Coulibaly ha fatto quello che tu non hai fatto in tutta la stagione Robertson ha fatto un cazzo di fallo su Di Lorenzo l'ha buttato sui cartelloni pubblicitari che ha fatto Coulibaly ha corso è andato addosso all'albitro come fanno i vari Bonucci Chiellini ai suoi tempi va bene come facevano ai tempi Chiellini e Bonucci come lo fanno tuttora perché quando ha segnato il Napoli cosa ha fatto il Liverpool per fare vedere al VAR se Mertens era in fuorigioco ha preso la palla non l'ha messa al centro l'ha messa dove è stato fatto fallo il fallo su De Ligt no su De Ligt scusatemi su Van Dijk questo che ti sta a dimostrare che se tu pressi l'albitro l'albitro si si destabilizza un attimo che ha fatto Coulibaly? questa era 5-6 volte che faceva il fallo e su 5-6 volte che Robertson si accavava questo fatto l'ha fatto Coulibaly è partito dalla difesa è partito stava difendendo è partito dalla difesa è andato addosso all'albitro l'albitro appena l'ha visto arrivare ha detto cazzo la munizione gliela devo dare per forza e si è beccato pure Coulibaly l'ammunizione ha preso l'ammunizione è tornato a posto basta però ha fatto quello che deve fare un capitano comunque ma dobbiamo vedere se c'è stata la svolta mentale da parte dei giocatori io penso che la svolta mentale ci sia stata perché pure oggi è una partita molto difficile io l'ho detto dobbiamo portare a casa massimo un punto e l'abbiamo portata quindi bene o male la squadra c'ha la grinta oggi ci hanno messo grinta dovevano arrivare prima quelle benedette lettere dei soldi che dovevate pagare non lo so comunque la prossima se non sbaglio è Napoli Bologna ma non mi ricordo perché non mi ricordo le date faccio un'ucasina che è data mamma mia allora per me oggi ero giovedì figurato poi ci abbiamo Napoli Napoli gang col gang bastano pareggio però meglio non rischiare è meglio vincere le altre partite l'Inter ha vinto una volta questo cazzo è in terra viaggia l'Inter viaggia e a pari punti col Borussia Dortmund Messi Messi pure stasera un alieno Adegar Ronaldo comunque iscriviti al canale e lascia tanti commenti e qua sotto qui sotto lascia commenti commenta 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 ad un prossimo video state buone sempre forza Napoli grazie a tutti